A Pineto l'estate è uno spettacolo. Questo il flame che accompagnerà l'estate pinetese. Oltre 100 appuntamenti tra musica, cultura, teatro, cinema e spettacoli per un'estate all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento di qualità. Da qui a metà settembre saranno diversi gli artisti noti che si esibiranno. Eugenio Finardi, Alma Megretta, Umberto Tozzi, Banda Bardo e Cisco, Dito nella Piaga, Filippo Graziani e Marco Morandi. Molto attesa l'iniziativa Carnevale anche in estate vale, in programma l'8 agosto con la Mobbetters Band. La domenica al mattino ci saranno nella Torre di Cerrano i concerti all'alba, mentre la domenica sera ci saranno gli appuntamenti del caffè letterario nel giardino di Villa Filiani. Dopo due anni difficili, molte le associazioni che sono ripartite, devo ringraziare davvero tutte, 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 e dietro ogni rappresentante che questa sera ha raccontato un po' il programma che vedremo nel corso di questi due o tre mesi, c'è un lavoro importante. Dietro, l'ho detto, ci sono decine e decine di persone che lavorano. Abbiamo in qualche modo creato una bellissima sinergia con tutte le associazioni che si sono rese propositive in vista della stagione. Non è stata facile, ci abbiamo messo molto impegno, ognuno ha messo del suo. È una ripartenza questa, è stata difficile, non facile, uno sforzo importante da parte dell'amministrazione comunale, ci crediamo, è l'ora di ripartire adesso. È l'ora di ripartire, sono convinto che sarà una stagione ricca di emozioni.